Quando si vince 1-0, se non segniamo il secondo gol, può succedere tutto fino alla fine. Un colpo di sfortuna per noi, una cosa che è su calci piazzati. Il problema nostro questa sera è che abbiamo mancato di efficacia. È un paradosso. Dopo l'1-1 subito in extremis dal coraggioso Sassuolo, sono in molti a parlare di Roma in flessione. Eppure i giallorossi sono ancora imbattuti. Ma dopo i due pareggi consecutivi, la Juve si è già arrampicata a meno uno, staccando il Napoli, che comunque è solo a quattro lunghezze dalla capolista. Ieri, oltretutto, De Sanctis e compagni hanno fatto passi avanti sul piano del gioco rispetto alle ultime prestazioni. Purtroppo questa è stata una prestazione ottima dal punto di vista tecnico, agonistico, fisico. E ci è mancato il colpo del KO. A una settimana dalle polemiche antibanti, anche ieri, più di qualche tifoso si è lamentato per un possibile rigore negato agli Aic. La società, come al solito, ha glissato sull'argomento. Inoltre, il serbo è passato alla storia della partita, più per i numerosi gol sbagliati a tu per tu con Pegolo. García ha difeso con decisione il suo talento, ancora troppo fumoso però, per potersi freggiare del titolo di vice Totti. L'occasione di gol di Ademlaic se l'ha creato lui, nessun altro, allora forse con un altro sul campo non esiste l'occasione di gol. Ora la sosta può aiutare García a rincuorare i suoi, ma soprattutto a rimettere in gruppo gli assenti, da Cervinio a Benatia aspettando il miglior Maicon e il rientro di Totti. Perché a Trigoria vogliono dimostrare che la Roma è tutto forché in calo. Passerà questa amarezza e ci sarà l'opportunità di Cagliari, che l'unica cosa è che la Marico ci sarà tra 15 giorni. Grazie a tutti.